C'è solo una cosa da fare con questi due, lasciarli in pace. C'è una cosa che non sopporto suoni prepotenti. Io non sopporto neanche i rompiscatole. Basta non fargli perdere la pazienza. Non ti scaldare, parliamo nel momento con calma, eh? Io non ne voglio parlare, io ti butto a mare! Se no, sono guai. Non facciamoli arrabbiare. Dal 23 settembre, su Fox Retro. Siamo già arrabbiati.